Cosa accadrebbe se le profezie millenarie fossero vere? Se date misteriose potessero rivelare il destino dell'umanità? Prima però, ti chiediamo solo una gentilezza, iscriviti e metti mi piace al video per aiutarci a divulgare i nostri messaggi di fede. Nel cuore di una piccola comunità rurale, lontana dalle luci scintillanti delle grandi città, si nasconde un segreto religioso che sta attirando l'attenzione di credenti e scettici di tutto il mondo. Una profezia straordinaria, che trae origine d'antiche scritture e visioni mistiche, è emersa dall'oscurità per gettare una luce spettrale sulla vita delle persone. La data al centro di questa profezia è il fulcro di tutte le speranze, paure e speculazioni. La profezia, che pare sia stata svelata a un modesto contadino della zona, è datata millenni fa e contiene dettagli sorprendenti riguardo a eventi futuri e al ruolo della Vergine Maria e San Michele, Arcangelo del Giudizio. Il contadino, di nome Giovanni, ha sostenuto di aver ricevuto questa rivelazione divina in una visione notturna, nella quale gli spiriti celesti gli parlarono in una lingua antica e misteriosa. La data in questione, fissata nel calendario per il 17 settembre, è stata accolta con una miscela di eccitazione e terrore. La profezia afferma che in questa data, il mondo sarà scosso da un evento di proporzioni catastrofiche. Le interpretazioni della profezia variano, alcune suggeriscono la possibile venuta del giudizio universale, mentre altre parlano di un profondo cambiamento spirituale e di una nuova era di saggezza e pace. La profezia ha attirato l'attenzione di teologi, storici religiosi e scienziati di tutto il mondo. Alcuni ritengono che possa essere un antico messaggio divino che sta finalmente per compiersi, mentre altri sono più scettici attribuendo la sua origine a credenze popolari e superstizioni locali. La comunità, nel frattempo, è divisa tra coloro che credono fermamente nella profezia e stanno preparando rituali religiosi e luoghi di rifugio per quel giorno fatidico, e coloro che sono scettici e vedono la data come un semplice mito da ignorare. L'atmosfera è carica di tensione e aspettativa, con eventi religiosi e incontri di preghiera che si svolgono regolarmente in preparazione alla fatidica data. La data del 17 settembre è il fulcro di questa profezia misteriosa, un giorno che ora si avvicina rapidamente, portando con sé una tensione palpabile tra i credenti e gli osservatori curiosi. Questo giorno è stato descritto nella profezia come un momento cruciale nella storia umana, un punto di svolta che lascerà un'impronta indelebile sull'animo umano. Al centro di questa profezia si trovano due figure religiose di estrema importanza, la Vergine Maria e San Michele. La Vergine Maria è stata venerata per secoli come la Madre di Gesù Cristo, simbolo di purezza e compassione. San Michele, d'altro canto, è considerato l'arcangelo del giudizio, il comandante delle forze celestiali che combatteranno le forze del male nell'Apocalisse. La profezia afferma che questi due esseri divini avranno un ruolo chiave nell'evento del 17 settembre, ma il modo in cui saranno coinvolti è oggetto di varie interpretazioni. Alcuni credono che la Vergine Maria e San Michele guideranno l'umanità verso la redenzione, mentre altri temono che la loro presenza sia un segno di un imminente giudizio divino. Il cuore della profezia contiene dettagli straordinari su ciò che accadrà il fatidico giorno. Si parla di segni celesti, con stelle cadenti e un'eclissi solare prevista per quella data. Alcune interpretazioni sostengono che questi eventi astrali saranno accompagnati da fenomeni naturali straordinari, come terremoti e tempeste. Tuttavia, la profezia è ambivalente riguardo alle conseguenze di questi eventi. Alcuni credono che il 17 settembre porterà alla fine di un'era oscura e al sorgere di una nuova era di saggezza e comprensione. Altri temono che sia un presagio di distruzione e caos, e che solo coloro che si preparano adeguatamente saranno in grado di affrontare la catastrofe imminente. Le interpretazioni della profezia variano ampiamente, da visioni di una terra rigenerata a profezie apocalittiche e di disastri globali. Tuttavia, una cosa è certa, il 17 settembre è una data che ha catturato l'immaginazione e le paure di molte persone in tutto il mondo, e il suo avvicinarsi continua a suscitare emozioni contrastanti tra chi crede e chi resta scettico. La profezia del 17 settembre ha scatenato un dibattito accalorato e appassionato tra teologi, esperti religiosi e scienziati di tutto il mondo. Mentre alcuni credono che questa data rappresenti il culmine di una profezia divina millenaria, altri la vedono come una semplice credenza popolare da non prendere troppo sul serio. Le interpretazioni variano notevolmente. Alcuni teologi sostengono che la profezia segnali un momento di purificazione spirituale, in cui l'umanità sarà chiamata a riflettere sulle proprie azioni e a cercare la redenzione. Vedono la presenza della Vergine Maria e di San Michele come segni di misericordia e protezione divina. Al contrario, alcuni esperti religiosi scettici suggeriscono che la profezia sia stata manipolata o travisata nel corso dei secoli, e che non abbia alcun fondamento reale. Pensano che le persone stiano facendo affidamento su credenze infondate, creando una crescente isteria collettiva basata su false premesse. Le reazioni delle autorità religiose alla profezia variano notevolmente da una denominazione all'altra. Mentre alcuni leader religiosi hanno accolto la profezia con entusiasmo, vedendola come un'opportunità per rafforzare la fede dei loro seguaci, altri sono stati più cauti e hanno esortato alla prudenza. La Chiesa Cattolica, ad esempio, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui si è mostrata aperta all'indagine della profezia, ma ha anche esortato i fedeli a mantenere la calma e ad astenersi da comportamenti estremi in vista del 17 settembre. All'interno della comunità locale, l'atmosfera è carica di tensione e incertezza. Mentre alcuni abitanti abbracciano ferventemente la profezia, preparando rituali religiosi e luoghi di rifugio in caso di emergenza, altri sono più scettici e ritengono che l'intera situazione sia esagerata. In risposta a questa divisione, sono sorti gruppi di discussione e incontri di preghiera, in cui le persone cercano di conciliare le loro divergenti opinioni e di trovare un terreno comune. Alcuni credono che la profezia sia un invito alla riflessione personale e alla crescita spirituale, indipendentemente dalla sua veridicità, mentre altri sono convinti che il 17 settembre segnerà davvero un evento epocale. L'atmosfera in questa comunità rurale è carica di tensione e aspettativa, mentre il mondo intero osserva con curiosità e cautela. Il 17 settembre si avvicina velocemente, e solo il tempo dirà se questa profezia si rivelerà un avvertimento spaventoso o una semplice superstizione. Nel frattempo, la comunità cerca di affrontare la divisione e l'incertezza che circondano questo enigma religioso. A misura che il 17 settembre si avvicina, emergono storie e testimonianze straordinarie da parte di coloro che credono fermamente nella profezia. Molte persone della comunità rurale e oltre stanno condividendo le loro esperienze personali di come abbiano deciso di prepararsi per l'evento imminente. Ci sono racconti di famiglie che stanno accumulando provviste, costruendo rifugi sotterranei e preparando rituali di purificazione. Alcuni credono che la Vergine Maria e San Michele li proteggeranno durante il presunto evento catastrofico, e stanno cercando di garantire la loro sopravvivenza attraverso mezzi spirituali e materiali. Allo stesso tempo, ci sono coloro che stanno cercando di creare un senso di comunità, organizzando incontri di preghiera e ritiri spirituali in preparazione alla data fatidica. L'unità tra coloro che credono nella profezia è palpabile, e la fede nella sua veridicità li spinge a condividere queste storie ed esperienze. Mentre molte persone abbracciano la profezia con fervore, ci sono anche voci di scetticismo e critiche che cercano di gettare luce sulla situazione. Esperti religiosi e scienziati continuano a sollevare domande fondamentali sull'autenticità della profezia e sull'interpretazione delle antiche scritture. Alcuni scettici sostengono che la data del 17 settembre potrebbe essere il risultato di un errore di traduzione o di una manipolazione delle fonti originali, mentre altri vedono il fenomeno come un esempio di suggestione collettiva. Sospettano che l'isteria riguardante la profezia possa essere alimentata dalla paura e dalla mancanza di conoscenza. A misura che ci avviciniamo alla data fatidica del 17 settembre, l'atmosfera è carica di emozioni contrastanti. Le storie e le testimonianze di coloro che credono nella profezia si mescolano alle voci di scetticismo e critica, creando una tensione palpabile nell'aria. Le domande rimangono senza risposta. Sarà il 17 settembre davvero un giorno di avvertimento spaventoso o una semplice superstizione? La comunità e il mondo intero attendono ansiosamente di vedere come si svilupperanno gli eventi e se questa profezia si rivelerà vera o falsa. Mentre l'umanità aspetta con il fiato sospeso, la data del 17 settembre rappresenta un momento di riflessione su ciò che crediamo, su come affrontiamo l'incertezza e su come la fede e la razionalità si intrecciano nelle nostre vite. Che cosa riserva il futuro? Solo il tempo lo dirà. Grazie per averci seguito, alla prossima!